Quando l'insegnante del figlio ha comunicato a questi due genitori che il bimbo non aveva amici a scuola, loro hanno deciso di separarlo dal cagnolino per convincerlo a socializzare. Tuttavia, le immagini registrate dal baby monitor li hanno costretti a riconsiderare la loro decisione. Si dice spesso che il cane è il migliore amico dell'uomo, perché a volte sembra che i nostri cuccioli traggano un'enorme soddisfazione dal senso di lealtà che dimostrano nei nostri confronti. Il rapporto tra Finn e il suo Brutus era l'esempio perfetto della fratellanza e fiducia reciproca condivisa tra un cane e il suo umano. Pochi mesi prima della nascita di Finn, sua madre ha adottato un boxer di due mesi che ha chiamato Brutus. Lo aveva trovato in una discarica, pallido e affamato, e incapace di muoversi o correre per via di una brutta infezione che gli aveva paralizzato le zampe. Per fortuna, Brutus si è ripreso in fretta perché la madre di Finn non aveva esitato ad aiutarlo. Era una veterinaria e sapeva esattamente cosa fare per lui. Quando si è ristabilito, Brutus è diventato parte integrante della famiglia, pochi giorni prima di essere raggiunto da un fratellino a due zampe. Prima della nascita di Finn, i dottori gli avevano diagnosticato una grave anomalia cardiaca che poteva essere risolta soltanto con un intervento a cuore aperto. Quando sono tornati a casa, dopo aver trascorso settimane in ospedale ad aspettare che il bimbo si riprendesse dall'intervento, i suoi genitori sono rimasti piacevolmente stupiti nel trovare Brutus incollato alla sua culla, a tutte le ore del giorno e della notte. Il neonato e il cagnolino hanno sviluppato subito un rapporto molto tenero. Erano inseparabili, e Brutus si concedeva un meritato pisolino solo quando Finn si addormentava, perché non sembrava intenzionato a perderlo di vista, neanche per un secondo. Tutti quelli che li vedevano interagire, dicevano che erano nati l'uno per l'altro. Quando Finn si ammalava, Brutus rimaneva al suo fianco e posava la testa sul suo petto. L'istinto protettivo del boxer nei confronti del bambino era semplicemente innato. Oltre ad essere leale nei suoi confronti, Brutus era anche il suo guardiano e custode. Quando Finn aveva solo un anno, è sgattaiolato fuori casa gattonando, mentre i suoi genitori erano distratti, ed è arrivato fino al giardino. In quel momento due cani di grossa taglia si sono allontanati dal loro padrone, e vedendo il bambino lo hanno puntato a tutta velocità. Brutus però non aveva perso di vista il suo piccolo umano, e quando ha percepito il pericolo, è corso a difendere Finn, piazzandosi tra lui e i cani. I due animali hanno cercato di intimidirlo abbaiando furiosamente, ma Brutus è rimasto immobile a proteggere Finn fino all'arrivo tempestivo dei suoi genitori. Mamma e papà erano terrorizzati all'idea di quello che sarebbe potuto succedere se il boxer non fosse stato con il bambino. Quella sera Brutus è stato premiato con una fetta di carne gourmet, e il suo rapporto con Finn si è ulteriormente solidificato. Ciò nonostante, crescendo, i genitori di Finn hanno cominciato a desiderare che il bambino avesse altri amici oltre al suo cane. Finn ormai aveva tre anni, ma non sembrava affatto interessato ai suoi compagni di classe. La maestra era preoccupata per il suo carattere sfuggente, e ha deciso di fare visita ai suoi genitori. Quando ha visto Finn così allegro e chiacchierone insieme a Brutus, la donna è rimasta bocca aperta. La maestra ha spiegato ai genitori del bambino che a scuola era taciturno e riservato, e che in tanti mesi non l'avevano mai visto così vivace e attivo. Se ne stava sempre da solo in classe, come se volesse essere da un'altra parte. Per questo non si concentra come dovrebbe, ha detto la maestra. I genitori di Finn hanno deciso quindi di ridurre il tempo che il figlio avrebbe passato con il cane, sperando che quel cambiamento lo motivasse a fare nuovi amici a scuola. Né il cucciolo né il bambino hanno accettato di buon grado quella separazione forzata. Finn piangeva continuamente, e Brutus si lamentava dall'altra parte della porta della cameretta del suo piccolo mano ogni volta che i genitori lo chiudevano fuori. All'inizio, mamma e papà hanno pensato persino di allontanare il cane per un breve periodo, ma poi si sono ricordati che Brutus aveva salvato la vita di Finn in più occasioni, e hanno capito che non sarebbe stato giusto nei suoi confronti. Alla fine hanno deciso semplicemente di separare le loro camerette per insegnare al figlio come vivere senza il cagnolino. Prima di quel momento Finn e Brutus avevano dormito nella stessa stanza, anche se in letti diversi. Tuttavia, a discapito delle loro aspettative, Finn è diventato ancora più chiuso. L'assenza del suo migliore amico ha avuto un effetto negativo anche sui suoi voti. I suoi genitori avevano ridotto ulteriormente il tempo dedicato al gioco con Brutus per convincerlo a studiare di più, permettendogli di stare col suo cagnolino senza orari soltanto il sabato. Qualche settimana dopo Finn ha finalmente smesso di piangere per la mancanza di Brutus, e i suoi genitori hanno tirato un sospiro di sollievo. Credevano che quel cambiamento fosse la prova del fatto che era ormai pronto per fare amicizia con i suoi coetanei. Finn ormai andava a letto senza pregargli di vedere il suo cane. E Brutus, dal canto suo, non si lamentava più quando veniva chiuso fuori dalla cameretta del bambino. Mamma e papà erano soddisfatti del cambiamento, ma leggermente scettici della rapidità con cui entrambi si erano adattati alla nuova situazione. Un giorno la maestra è tornata a far visita alla famiglia, e ha confessato ai genitori che la socialità di Finn non era migliorata, anzi ormai il bambino si isolava completamente dal resto della classe. I suoi genitori non riuscivano a comprendere il motivo di quello strano comportamento, e quando la maestra se n'è andata, hanno deciso di indagare più a fondo. Ma lo avrebbero fatto in segreto, per non turbare ulteriormente il figlio. La mattina dopo si sono svegliati prima del solito, per frugare tra i quaderni di Finn prima che si alzasse. Proprio mentre si avvicinavano in punta di piedi alla sua cameretta, però, hanno visto le luci nella sua stanza accendersi, spegnersi e riaccendersi. I genitori hanno immaginato che Finn dovesse andare in bagno, e sono tornati di corsa nella loro stanza. Un'ora dopo ci hanno riprovato, ma la luce nella cameretta del bimbo era ancora accesa. Non riuscivano a capire cosa facesse sveglio a quell'ora, ma hanno immaginato che fosse solo un caso isolato. La notte seguente hanno riprovato a intrufolarsi nella sua stanza, ma ancora una volta sono stati fermati dalle luci. La sera dopo hanno fatto un altro tentativo alzandosi prima del solito, ma anche in quell'occasione si sono dovuti fermare a pochi passi dalla porta della cameretta, disturbati dalle luci accese. Mamma e papà sono tornati in camera loro, delusi e perplessi, e hanno cominciato a cercare un metodo efficace per spiare nella stanza del figlio senza turbarlo. Quella mattina hanno deciso che avrebbero installato un baby monitor nella cameretta di Finn, per poter osservare quello che succedeva all'interno, senza essere costretti ad alzarsi. C'era solo una piccola falla nel loro piano. Di solito uscivano tutti e tre alla stessa ora per andare al lavoro o a scuola, e rincasavano tutti insieme. Così quel giorno il padre di Finn ha dovuto chiedere un permesso in ufficio e ha installato la videocamera dopo aver salutato la moglie e il figlio. Il giorno dopo hanno riprodotto la registrazione della notte precedente e sono rimasti senza parole di fronte alla scena che si erano persi mentre dormivano. Nel cuore della notte Brutus intruvolava nella cameretta di Finn e si sdraiava ai piedi del suo letto. Qualche minuto più tardi Finn scendeva dal letto con le coperte e si metteva a dormire sul pavimento accanto al cane. Qualche ora più tardi i due migliori amici si svegliavano e accendevano le luci. Ecco perché i suoi genitori le trovavano sempre accese quando provavano ad avvicinarsi alla sua stanza. Insieme i due giocavano per ore in religioso silenzio e poco prima dell'alba Finn faceva uscire Brutus dalla cameretta per non destare sospetti nei genitori. Il bimbo spegneva le luci e tornava a letto per concedersi un paio di ore di sonno prima della sveglia. Per tutto quel tempo Finn e Brutus avevano trovato comunque il modo di passare del tempo insieme. I genitori hanno capito che il loro legame era troppo profondo per essere spezzato dalle loro regole. E hanno agito di conseguenza. La mattina dopo hanno comunicato a Finn che avrebbe potuto passare tutto il tempo che voleva con Brutus, a patto che migliorasse a scuola, sia dal punto di vista accademico che sociale. Finalmente libero di frequentare il suo migliore amico, Finn è uscito dal suo guscio e ha fatto molte amicizie. Cercare di separarli è stata una pessima mossa. Mi vergogno così tanto di averci provato. Fino adesso ha tanti amici. E la parte migliore è che tutti adorano Brutus e insistono sempre per venire a giocare qui da noi, ha dichiarato la sua mamma. Tutto è bene quel che finisce bene. Conoscete anche voi dei bambini ossessionati dai loro animaletti domestici? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.